WAHEY KOOG! Ben ritrovati dal vostro AndroLink 91 in questo nuovo reclutamento per Inazuma Eleven Go Galaxy Big Bang. E' un po' che mancano i reclutamenti e oggi ne ho portato uno che mi state chiedendo da davvero tanto tempo e si mi state chiedendo anche la forma normale di questi due personaggi che andremo a reclutare oggi ma per quella ci vuole più tempo perché c'è sempre il problema di dover reclutare 10 personaggi dalla stessa community e poi poter reclutare loro due ma lo vedremo nel prossimo video reclutamenti. Oggi come avete letto dal titolo Wolfram e Desmodus forma Miximax. Devo ammettere che sono due personaggi che mi hanno molto affascinato mentre giocavo in Inazuma Eleven Go Chronostones e quindi ho deciso di reclutarli anche qui sul Galaxy. Innanzitutto per poter prendere questi due personaggi bisogna avere le loro amico card e le amico card di questi due personaggi vengono rilasciate dalla macchina gacha a Sandorias il pianeta sabbioso. Ci ho fatto anche un video su tutti quanti i personaggi che possono uscire dalla macchinetta con le palline su Sandorias quindi magari ve lo lascio nelle schede così potete andare a vederlo e vedere anche chi vi manca da prendere alla collezione se non li avete già tutti. L'unico problema è che Sandorias accetta solo monete d'oro e recuperare le monete d'oro non è facile come sembra. Io dopo 300 monete ancora devo trovare tutto quindi capite com'è la situazione. Iniziamo proprio da Wolfram. Wolfram per essere reclutato ha bisogno dell'amico card che si prende dalla macchina gacha su Sandorias e poi della marionetta del lupo che si prende da Nihil Niharis nel percorso di Kanda Satoko alla torre di Inazuma City. Ci serve poi il gene Kremisi che si prende da Dark Angel nel percorso del Professor Wintersea nel club di calcio della Raymond del passato. Poi avremo bisogno di Fiala Preziosa che si prende dalla squadra Ghiru del Professor Cryptics che si trova nella sala conferenze del club di calcio del presente. Come ultimo requisito ci serve l'argomento caccia che si prende nella foresta di Latonic. Passiamo quindi a Desmodus. Come detto all'inizio per Desmodus ci serviranno tre argomenti che servono anche a Wolfram. Ovvero il gene Kremisi che si prende da Professor Wintersea nel passato dai Dark Angel. La Fiala Preziosa che si prende dalla squadra Ghiru nel percorso del Professor Cryptics nella Raymond del presente. L'argomento caccia che si prende nella foresta di Latonic. E l'argomento narcisista che si prende da questo personaggio al parcheggio della Raymond del presente. Inoltre vi ricordo che per poter battere le squadre necessarie a prendere questi oggetti dovete prima battere tutte quante le altre squadre che vi daranno poi il pass per aprire le aree successive di quella stessa route. Entrambi i personaggi sono ottimi giocatori nella loro forma Miximax. Tranne Desmodus che riceve un piccolo nerf nelle statistiche in Miximax e non capisco il perché però hanno deciso così. Mentre Wolfram invece ottiene un bel boost in attacco e può arrivare anche a oltre 400. Quindi se volete un giocatore dal tiro potente e non vi piacciono gli altri che vi ho già mostrato e vi piace Wolfram. Beh andate con Wolfram Miximax che ha la scelta giusta. All'ogni modo KUJI video termina qui. Quindi come sempre vi ringrazio per aver seguito il video. Vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!